E voi sapete, cane di merda! Qua c'è uno sniper, rompi, palle Ma tutto, cioè Questo coso qua ha vinto il gioco ormai E ciao a tutti ragazzi, sono Francio50 E oggi siamo qui nella mia nuova Postazione da gaming Come potete vedere questa qua è la mia La mia nuova postazione Dove farò i video E questo qua è il primo video Probabilmente, o non mi ricordo Se sto facendo Cioè che sto facendo il video con il mio Microfono nuovo, infatti si riesce a sentire Anche la quantità molto buona E se strillo non si sente un cazzo di meglio Per almeno Ok, peggio a livello 5 Madonna, porca loca Ok, intanto allora Il nostro obiettivo adesso, rega Sarà arrivare primi Con più di 100.000 punti E se arrivo primo con più di 100.000 punti Sarà il mio record assoluto di D.io E finalmente Oggi volevo fare sta cosa qua Perché Intanto andiamo a scappare Porca vacchezza C'è il necromancer con lì Subito Porca vacca Quanti allora sto dicendo Subito non lo facciamo Il necromancer Ma voglio andare di potenza Voglio andarci Subito con Un tank che spara tanti pallini Ma tanti, tanti, tanti Ok Max health Potenziamoci Potenziamoci al massimo Rega Vai, 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 vai Dai, chiediamo il livello Ci prendiamo il flank No, come si chiama pure Il Ti ricordo Vai Livello 15 Sub Ra To Ok Twin Ecco come si chiama Twin flank Twin Twin e bus Bullet speed Li spariamo come delle canette E facciamo un bel danno Della madocina Uuu L'hai forte Allora Reload E poi Facciamo Max health Un po' di vita ci serve Che se arriva uno Che c'ha un tankone Forte, forte Ci fa un gran culo Madonna Telefono E Vai lì Vai, 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 vai Distruggi tutto Vai, tutto Eeeh Quanta roba Giù tutto Rega Vai, vai, rega Giù tutto Oh Grandioso Grande 21 C'è il livello 22 Questo qua muore Questo qua Se avessi un po' di bullet speed Gli avrei già fatto Un culastro Ma che merda sei Oddio ma è fortissimo C'è del bullet penetration Dello schifo Lo metto anch'io Allora Vai Che così si penetra tutto Grandissimo Jackaman Vediamo se c'è ancora il penetration Di prio Eh non ce l'hai più Penetration di prio Uuuuh Stavo rischiando Cristalentissimamente Male Andiamo subito Ci siamo salvati Ora Ricopriamo subito Stavita E poi Possiamo andare al centro Penso Sempre molto divertenti Tipo l'ice bucket Una roba così E questo qua ci fa Ci macina un bel culo Con quelle pallone grosse E noi intanto Prendiamo così E andiamo a Evolverci E Bella rega Se noi vogliamo Tankare Come Cristo Dobbiamo subito Prendere Il quad Il twin flank Questo schifo qua Più reload ci vuole Bella lì Ora possiamo andare al centro E distruggere Tutto A me Sto tank Fa schifo Tanto Anche se è forte Però Io sono più sui tank Elaborati Quelli fighi Quelli Quelli Diversi Quelli strani E quindi A me questo qua non piace Però bisogna mettere Che è molto forte Perché spara sia davanti Che dietro Con una potenza assurda Ciao Poi lì è l'evoluzione Prima Eh 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 No Cosa vuoi Cosa vuoi Io c'ho la bullet penetration Tu non ce l'hai Non l'hai capito ancora Dove sei finito Facciamo Team 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 Ma allora vuoi morire Quelli mi sa che vuole morire Uuu Come gli vanno addosso male I miei pallini Non lo stiamo a inseguire Tanto è una perdita di tempo E Direi di fare un altro Poi di damage Giusto Giusto Così per sicurezza Non è che mi arriva un tankone Eh potevamo prendere anche quello lì Noi Però non l'abbiamo preso Qua c'è uno sniper Rompi Palle Vai Cavolo Dai Un colpino Mancava Oh oh No eh Wifi Non mi dai brutti segni Ecco infatti Vedete che sta già per morire Questo qui Lo lasciamo vivere E Ancora Ancora sta per morire Andiamo al centro E Bonale C'ha il manager Purgoli Che finocchio Vai Tanti bei cosi Questo qua si che ci da tanti punti Cribbiolo Ma cosa vuoi fare Cosa pensi Lui pensava di uccidermi No eh No è che mi uccidono sti cosi Ste balle Un po' di questo Vai lo voglio io Questo coso qua Mi da Diecimila livelli Se lo rubo Sì Fotte se Di ste Robi qui Bombic Che era 2 39 Madonna santa Allora E Movement speed Che ci sarà per scappare E intanto Noi andiamo al centro Del gioco Per Farmare ancora Voglio arrivare a livello 45 E voi sapete Cane di merda Merda Raga aspettate un secondo Che Chiudo la finestra Se smetti di abbaiare Sarebbe un po' più bello Però Questo qua Diecimila punti Io ce ne ho Diciottomila Gli facciamo un bel Groppone Uh Basta Sto cane Spacca tanto Io rischio la morte Pure Speriamo di Fotterglielo Così A caso Glielo ho preso Io Non ci credo Facciamo un altro Movement speed Bella lì Livello 44 Livello Andiamo a livello 45 E siamo già 22.000 punti Siamo In classifica Quarti Ragazzi Non me ne ero neanche accorto Che eravamo in classifica Ma bella lì Po' di bullet speed Dovrei volerlo Eccolo qua L'ultimo livello Che sta per arrivare Vabbè Tanto ci sono Tancati al massimo Abbiamo ucciso Uno a caso Oh Oh Aiuto Cosa vuole fare Minchia Minchia che botta Che mi ha dato Merda che botta Quello cosa aveva Tutto al massimo Aveva Il bullet damage Al massimo Ma cosa vuole Che adesso Mi evolvo Eh Allora Io voglio tankare Non so se avete capito Quindi Octoteng Rega Questo qua È il bordello Della vita assoluto Questo qua Ti dà Tutto ti dà Ti dà tutto Ti dà Tutto Cioè Questo coso qua Hai vinto il gioco Ormai Guardate Troppo forte Spara da tutti i lati Tutti fottutissimi i lati Boh È un bug del gioco Secondo me Prima o poi Lo toglieranno Sto coso qua È È una roba indecente Madre di dio santo Siamo già a 28.000 punti Ragazzi Adesso facciamo Un piccolo taglietto Nel video Dove Perché sennò Dopo diventa Troppo Cosa credi Cosa credi Cretino Che arrivo lì Con due bombe Ti sbombo Tutto io Merda c'è un casino Di bullet penetration Però eh Dirlo Ah schivato Via da qua Via da qua Via da qui 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 Stiamo morendo Medei medei Porco diesel Stiamo morendo Rega Rega Stiamo morendo male Stiamo morendo malissimo Malissimo Porco diesel Vabbè Live la 22 Allora Popone le casse Pompone le casse Pompone le casse Ti arrivo dosso Ti sfondo La famiglia Porco crispo Prendiamo subito Ehm Una cosa Che non prendevo Da tanto tempo Era il machine gun Adesso L'ho ripreso e ho intenzione di fare il bombone quello che spara tanto, tanto, tanto e fa malissimo e ci stiamo facendo male anche noi da soli madonna quanto era forte quella cosa di prima no no reload vai lì che speriamo più cose allora a livello 30 come saprete ci si evolve e io probabilmente vorrò fare sto coso qua dato che mi sembra che ci sia solo sto coso da scegliere